È notevole. Credo che questa sia una buona notizia che dimostra tra l'altro che nel nostro paese ci sono tante intelligenze e si può fare degli investimenti. Se un giapponese viene ad investire e sviluppa talenti, come qui si dice, nel settore in cui loro stanno lavorando, è molto importante. Tra l'altro vorrei ricordare un punto. Il nostro elemento, visto che c'è chi teorizza che bisogna chiudere i porti e che bisogna far morire le persone che cercano di venire da noi, vorrei ricordare che il nostro problema è che negli ultimi tre o quattro anni 208 mila giovani laureati se ne sono andati dal nostro paese per andare a lavorare da altre parti. E negli altri paesi europei non hanno chiuso le frontiere, li prendono perché sono persone intelligenti, capaci, creative, capaci di far funzionare. Quindi questa è una buonissima notizia, ma l'altra notizia è che noi avremmo bisogno non che i giapponesi investano in Italia, ma che anche gli italiani investano in Italia, che anche il governo desse il senso che ha il coraggio di investire qui da noi e di creare lavoro.